Il primo pilastro di questo cambiamento, ma non c'è dubbio, che è la sostenibilità. Perché noi dobbiamo fino in fondo capire che la questione ambientale non è un tema. La questione ambientale è il nuovo paradigma dello sviluppo. Il secondo obiettivo del piano strategico per le imprese e per le persone, dall'Italia della burocrazia all'Italia semplice. Il terzo, c'è bisogno di un equity act per ridurre le distanze sociali, territoriali e creare comunità. Il quarto, portare in cinque anni la spesa della conoscenza ai livelli Ocse con un incremento annuo di 4 miliardi. Infine, un piano per la salute, la cura, l'assistenza e per non lasciare soli più deboli. Se a questo serve questo partito più unito, con una vocazione più unitaria, penso di poter dire tra noi con uno spirito solidale che è un grande valore per il Paese e perché siamo convinti che dobbiamo ancora scrivere tante belle pagine della storia della Repubblica italiana. Grazie.